E bella a tutti ragazzi qua dal vostro YT2ML2 che vi parla Ragazzi volevo avvisare per tutti quanti che oggi non farò la live né di pomeriggio né di sera Essendo che ragazzuoli dovrò studiare per domani essendo che ho un'interrogazione di storia Quindi già mi scuso in antico per quelli che già aspettavano la live Però tranquilli che domani ci sarà una live sicuramente di pomeriggio Quindi state tranquilli Io ringrazio a Pingu perché l'ha visto ieri che ha abbandonato 10 euro Comunque lo ringrazio molto Grazie mille per il supporto di tutti quanti E ragazzi quindi noi ci sentiamo domani con una nuova live Tranquilli che domani saremo carichessimo come non mai Va bene ragazzi quindi noi ci sentiamo che ho anche video elezioni non so In tal caso scrivetemi anche se voi avete video elezioni in questo momento O se siete a scuola Ciao belli Ci sentiamo Bella bruderini Grazie mille